Ospite del Corriere Salentino, oggi il direttore sportivo del Casarano Francesco Montervino che salutiamo. Buongiorno a lei. Noi ci troviamo a Parabita presso l'Effort Sport Village dove si giocherà Casarano Cavese, campo in sintetico. Direttore, che partita sarà su questo campo Casarano Cavese? Che partita si aspetta? A me aspetta una partita di grande intensità, una partita fra due squadre forti, fra una che ha dimostrato dall'ottava giornata di essere la migliore, che è la Cavese, e fra una con una che chiaramente ha fatto un po' meno rispetto a quelle che erano le aspettative di inizio anno. Ma comunque due squadre forti, due squadre che hanno due grandi attacchi ma che hanno anche due ottime difese. È chiaro che la Cavese viene da un periodo ottimo con tantissime partite vinte consecutive, ha dato dimostrazione anche battendo quelle di bassa classifica in maniera abbastanza facile, con un 4 a 1, mi pare un 5 a 1. Quindi questo è il sintomo di una squadra che è in grande salute. Al contrario, magari noi invece veniamo da un periodo che ci ha visti subito dopo Barletta, un pochettino forse in down, chiamiamola così. perché chiaramente probabilmente la partita di Barletta da un 2 a 0 iniziale e poi averla pareggiata in estremis ha portato qualche strascico. Però diciamo che tutto sommato abbiamo il dovere di dover fare una buona partita. La Cavese ha numeri impressionanti come lei ricordava, sei vittorie consecutive, 20 gol segnati in sei partite, una media più alta di tre a partita e poi questo attacco con Banegas, Bubas e Gagliardi che fa davvero impressione. Bisognerà giocare una gara come scendere in un'arena insomma, praticamente una gara col cotello tra i denti per riuscire a fare un risultato e magari fare anche un favore ai cugini del Nardò. Ma noi abbiamo bisogno di fare la nostra partita. Innanzitutto mi preme sottolineare le dichiarazioni fatte dal mio ex compagno di da Emanuele Troise, nonché allenatore della Cavese, o da Bubas che hanno saputo per certo che qui troveranno una guerra, troveranno la terza guerra mondiale, che le pugliesi si sono unite contro di loro. Beh, gli voglio dare un consiglio. Pensassero poco a quelle che sono le chiacchiere, pensassero a giocare perché noi faremo la nostra partita come sempre abbiamo fatto senza regalare nulla a nessuno. Veniamo da una brutta sconfitta che è quella di Nardò. Abbiamo il dovere di dimostrare alla nostra gente, ai nostri tifosi, alla nostra società che questa squadra non è sicuramente da meno la Cavese. Senza fare tante chiacchiere, tanti giri di parole, noi la guerra non la facciamo a nessuno, anche perché ci ha pensato già il giudice sportivo a farci giocare a campo nero tra porte chiuse. Quindi guerre non ne troveranno mai. Ma poi siamo persone corrette per bene. Le guerre semmai le facciamo nel campo per 90 minuti. I nostri giocatori hanno dimostrato quest'anno quasi sempre di fare grandissime partite. Ripeto, mi dispiace che l'ultima partita sia stata una partita dove non ci ha visti i protagonisti, però ricordiamo che prima di quella partita il Caserano era la squadra che aveva perso meno partite in questo campionato. Il che vuol dire che a noi non ci piace perdere. Senta, direttore, il Caserano a quattro giornate dalla fine lotta per mantenere il quinto posto, ma potrebbe anche, i numeri lo dicono, aspirare al quarto, quello occupato al momento dal Barletta. Si lotta quindi fino alla fine con la speranza di un buon piazzamento. Il quarto potrebbe anche essere un buon piazzamento, anche se in realtà cambierebbe poco. Sì, cambierebbe poco, però credo che questa squadra, con me ovviamente come principale responsabile, ha il dovere di fare quanti più punti possibile, se non altro perché il traguardo più importante che ha avuto negli ultimi anni il Caserano è stato quello del quinto posto di due anni fa con la sconfitta della semifinale play-off. Quindi l'obiettivo è cercare di migliorare quello che è stato il miglior piazzamento degli ultimi anni. e abbiamo il dovere di arrivare possibilmente anche più in avanti del quinto posto, ma chiaramente l'obiettivo è quello adesso di qualificarsi. Certo. Senta, 15 pareggi su 30 partite, un po' troppi, no? Perché secondo lei? Sintomo di una squadra che non ha saputo vincere ma che odiava perdere. C'è da dire che su 15 pareggi credo 9 volte la squadra sia andata sotto, o 9 o 10 volte, che se non ricordo benissimo i numeri, il che vuol dire che nel momento in cui sei andato sotto hai avuto quella reazione anche nervosa che ti ha portato poi a pareggiare la partita e quelli vanno visti come pareggi che sembrano quasi delle vittorie. Chiaramente invece quelle partite dove andavi sopra e poi le pareggiavi ti fanno storcere un po' il muso perché sono partite che potevi gestire in maniera diversa. È chiaro che è stato questo il dato più allarmante quest'anno, il fatto di aver pareggiato tante partite, ma è un dato sul quale ci si può lavorare e chiaramente si può migliorare. La società e lei avete allestito una rosa di tutto rispetto, si sa, è evidente. Finora qualcuno l'ha un po' delusa, è stato un po' al di sotto delle sue aspettative? Perché la società e lei avete fatto tantissimo per allestire una squadra? Sì, ma la componente per vincere non è dettata soltanto da chi va in campo, è dettata anche da tutto quello che secondo me è l'aspetto societario, organizzativo, all'ambiente, l'aspetto mediatico, giornalistico, tifoseria. Io credo che questa squadra e questa piazza abbia bisogno di crescere veramente tutti insieme perché se c'è unità di intenti si può veramente solo crescere. È chiaro che non siamo contenti del rendimento che ha avuto qualche calciatore, non siamo stupidi, sappiamo che probabilmente qualcosa sarà sbagliata, sappiamo dove eventualmente possiamo intervenire e dove si deve assolutamente intervenire. Però credo che questo sia anche frutto di un lavoro che è stato fatto dall'inizio dell'anno quando si è cambiato praticamente totalmente tutto. Io ho sempre detto dall'inizio che cambiare tutto poi diventa difficile per poter vincere un campionato. L'obiettivo quest'anno era quello di fare molto bene, chiaramente se fossimo stati nelle condizioni di vincere ci avremmo provato fino alla fine, ma l'obiettivo era quello di far bene. Ecco perché ci tengo che questa squadra almeno faccia meglio di quello che è stato il miglior risultato sul campo che ha raggiunto negli ultimi anni. Bene, per concludere questa intervista le faccio due domande sui suoi trascorsi che sono di altissimo livello. Lei tra pochi giorni farà 45 anni a maggio e lei è stato un capitano in pectore perché è tarantino, è nato calcisticamente praticamente nella sua città e poi è stato durante la sua carriera di calciatore capitano di quattro società, Taranto, Ancona, Salernitana e Napoli e Salernitana alla fine. Quindi è un capitano in pectore, il calcio lo sente proprio nel DNA perché insomma la figura del capitano è una figura particolare nel mondo del calcio perché si sente di più forse la maglia e la responsabilità. Ma io sono stato un calciatore che ha sempre voluto le responsabilità, devo essere onesto questa è una caratteristica che mi porto anche da direttore, anzi quando poi le responsabilità non mi vengono date in qualche modo forse rendo anche un po' meno. È stato un riconoscimento che mi hanno dato tutte le società dove sono stato, probabilmente per attaccamento, per professionalità, per voglia, per abbenegazione, per sacrifici. Io credo che il capitano debba essere quello che poi rappresenta una squadra, una società e un'idea di quella società. Io sono stato sì forse anche un po' fortunato e bravo a piacere a tutte le società dove sono stato perché a 18 anni proprio nel campionato di Serie D facevo il capitano a Taranto. A 19 anni era capitano già del Taranto? A 18 anni. A 18 anni. A 18 anni e mezzo sì. A 18 anni e mezzo. Ero capitano del Taranto, ho fatto per tre anni il capitano poi ad Ancona in C e in B, l'ho fatto a Napoli in C, in B, in A, in Coppa UEFA, l'ho fatto a Salerno in D, in C, in C2, in C1 e in B. Quindi forse su 17-18 anni di carriera, a 12-13 anni sono stato capitano, il che vuol dire che è una caratteristica che mi sono portato sempre dietro. Adesso però siamo alle prese con un'altra carriera, quella da direttore, una carriera di responsabilità. Riperio, sono uno che le responsabilità le vuole e le vuole totalmente. Ecco, questa è un po' la sua terza esperienza, perché prima Taranto, poi Nola come dirigente e poi di nuovo direttore sportivo a Caserano, la terza esperienza. Esatto, sì. Diciamo la quarta, perché Taranto ne ho avute due staccate, però che mi hanno portato per fortuna sempre grandissimi risultati. E adesso alla soglia dei 45 anni, che festeggioro il 7 maggio, quindi il giorno dell'ultima giornata di campionato, è inutile dirvi che mi sarebbe piaciuto festeggiare in un'altra maniera il mio compleanno il 7 maggio e lo vedevo quasi come una strana casualità. Però mi auguro che possa essere comunque un giorno importante, non tanto per il mio compleanno, perché sono 45 anni e quando si invecchia non fa mai bene, ma più che altro perché mi auguro che possa essere un giorno dove il Caserano possa aver raggiunto un piazzamento importante in questa gridia per le off. Senta, un'ultima battuta. Quanti gol ha fatto in carriera da centrocampista? Lei era anche un po' un jolly perché giocava anche in altri ruoli, non solo a centrocampo, anche come laterale di difesa, ho letto sul suo curriculum, ha segnato un bel po' di gollo lei. In verità, siccome non era proprio una delle mie qualità migliori, sì, ne ho fatti abbastanza, ma onestamente il numero preciso non lo so, ho credito all'incirca una ventina. Per essere stato un centrocampista di caratteristiche difensive o un esterno di caratteristiche difensive, probabilmente sono andato anche oltre rispetto a quello che avrei dovuto fare. Ma la verità è che ci sono arrivato anche diverse volte e lì ne ho sbagliati anche tanti. Il momento più bello della sua carriera da calciatore, lei con il Napoli ha fatto CBA, quindi due promozioni, è stato quello il momento più bello? CBA e la qualificazione del Coppa. C'è stata una caratteristica nella mia carriera che mi ha sempre contraddistinto, ho fatto sempre risalite, perché ad Ancona ho fatto la risalita da un play-out per non retrocedere in C2 alla Serie A, a Napoli dalla C alla Coppa UEFA, a Salerno dalla D alla Serie B, quindi ho fatto sempre delle grandi risalite, ma sicuramente il momento più bello, nonostante io abbia fatto tante partite poi più importanti, vi dico in partite in Coppa UEFA magari contro il Benfica, contro il Pannonios, contro il Vlasnia, però credo che il giorno e il momento più importante della mia carriera sia stato quando abbiamo riportato il Napoli in Serie A il 10 giugno del 2007. Per me è stato il vero terzo scudetto nel Napoli, perché poi arrivare a Napoli e vedere 200.000 persone in piazza, chiaramente, sono numeri che in qualche modo ti rimangono e diciamo che quello è il mio scudetto, io non ho avuto la fortuna e il piacere di giocare mai per vincere uno scudetto, ma per vincere tanti campionati e quindi posso dire che quello è stato l'apice nella mia carriera. Bene, noi le auguriamo che anche come direttore sportivo possa festeggiare qualcosa di analogo. La salutiamo, in bocca al lupo per questo finale stagione con il suo Casarano e alla prossima. Grazie e crepi, un abbraccio a tutti.